Ciao, dottor Ghisellini. Ciao. Buongiorno. Oggi io e Alessia siamo qui per provare a farle qualche domanda sull'astronomia X, i raggi X in generale, la loro storia e poi alla fine anche magari qualche domanda in più, qualche curiosità sulla sua vita, sul percorso di studi, insomma che cosa l'ha portata ad essere dove oggi. E la prima domanda che volevamo farle è una domanda abbastanza semplice e penso la base per capire di che cosa stiamo parlando, ovvero che cosa sono i raggi X? Allora i raggi X sono un tipo di luce, proprio come la luce a cui noi siamo abituati che però riceviamo e rileviamo con gli occhi, però ne esistono altre, altri tipi di luce che si rilevano non con gli occhi ma con degli strumenti. Un tipico esempio sono le onde radio, anche le onde radio sono luce, no? E le onde radio sono di lunghezza d'onda molto lunga, sono le onde meno energetiche. Direi che la luce visibile sta nel mezzo e poi se volete aumentare l'energia di queste onde andate prima verso i raggi ultravioletti. Infatti quando vi esponete raggi ultravioletti dovete mettervi la crema solare, no? Altrimenti prendete le scottature. E poi abbiamo i raggi X. Avrete fatto sicuramente delle radiografie che nonostante il nome non usano le onde radio, ma proprio i raggi X. Il nome radiografia dipende dal fatto che le prime volte che si facevano si usavano dei sali di radio che era un elemento radioattivo che poteva produrre i raggi X. Comunque con i raggi X possiamo esplorare quei fenomeni, quelle cose che sono capaci di emettere i raggi X. Anche quando facciamo una radiografia al dente, vediamo il dente e quindi il raggio X ha potuto penetrare dentro la carne nostra e mettere in luce le ossa. Quindi stiamo studiando un tipo di radiazione molto più energetica delle onde visibili, della luce visibile. Quindi delle cose nell'universo, dei fenomeni dell'universo che sono capaci di produrre questi raggi X e quindi tipicamente sono delle sorgenti più energetiche, un pochino più violente e quindi abbiamo informazioni su un universo che è abbastanza diverso da quello a cui noi siamo abituati, guardando nei soliti telescopi, occhio nudo, binocoli e così via. Come sono stati scoperti i raggi X? I raggi X hanno avuto una storia particolare e appartengono a quel gruppo di scoperte fantastiche che si sono susseguite molto rapidamente alla fine del 1800 e agli inizi del 1900. pensate un po', in quegli anni si scopre che la fisica classica non descrive la realtà compiutamente, si scoprono delle cose stranissime, si scopre la radioattività, si scopre l'elettrone e quindi un elemento fondamentale dell'atomo e quindi si scopre che l'atomo non è una cosa, come dice il nome, indivisibile, è fatto da delle parti e a lato di queste scoperte c'è anche la scoperta dei raggi X. Dovete pensare che c'era uno strumento inventato da un inglese che ha permesso parte di queste scoperte e direi che l'eroe della scoperta dei raggi X era un tedesco, Röngen, Wilhelm Röngen, che è nato nel 1845 e i cui genitori però si erano trasferiti in Olanda e quindi lui ha studiato, stava facendo il liceo a Utrecht, vi racconto questa storia perché è molto particolare, che dà l'idea della caratura del personaggio. Ebbene, mentre stava seguendo una lezione, il suo compagno di classe, il suo compagno probabilmente di banco, disegna una caricatura di una professoressa che stava insegnando. La professoressa se ne accorge mentre Röngen sta guardando questo disegno, questa caricatura e si mette a ridere. E allora lo porta dal preside. Il preside accetta la versione di Röngen, che non era stato lui a disegnare questa caricatura, ma il suo compagno, ma vuole sapere il nome di questo compagno. E Röngen non glielo dice, non vuole fare la spia. E sapete cosa succede? Che Röngen viene espulso non solo da quel liceo di Utrecht per tutta la vita, ma da tutti i licei olandesi per sempre. Ma lui, comunque, non farà mai il nome del suo compagno. Suo padre, fortunatamente, gli dice di frequentare l'università, nonostante tutto, anche se non può dare esame, quindi non si può laureare, non è diplomato, non ha il diploma di scuola superiore. E mentre frequenta l'università conosce, si fa amico di un suo compagno che è svizzero, e il quale gli dice, ma guarda che a Zurigo c'è una università, il Politecnico di Zurigo, a cui non occorre il diploma di scuola superiore. Puoi andare là, fai un esame, e se passi l'esame puoi frequentare, anche senza aver fatto il liceo. E così fa. Lui si prepara, ovviamente passa l'esame a pieni voti, si laurea, e comincia la sua carriera di grande scienziato, di grande fisico, molto rigoroso e molto rinomato. Ad un certo punto, ormai cinquantenne, diciamo, verso 1895, decide di studiare questi strani fenomeni che si stavano affacciando alla fisica di quei tempi. E ha un apparecchio che viene chiamato tubo di crux, ma in realtà è una cosa che assomiglia molto ai vecchi televisori, che forse voi non avete mai visto, ma forse avete sentito parlare del tubo catodico, no? Il televisore vecchio, quelle cose molto grandi, non sottili come adesso. Bene, quella era una macchina che scaldava un filo di rame, questo filo di rame di un altro metallo scaldandosi, si emetteva delle cose strane dal suo polo negativo e si applicava una differenza di potenziale, vuol dire che si attaccava una pila, il cui polo meno si attaccava da una parte e il polo più dall'altra. Quindi le cariche, se fossero state negative, venivano allontanate dal polo negativo e venivano accelerate da quello positivo. Sapete che cariche uguali si respingono e cariche diverse si attraggono, no? E forse se posso farvi vedere... Questo è... lo vedete? E questo è Wilhelm Röntgen, no? E questo è... Gabriele, aspetta un istante. Devi interrompere la tua presentazione, Alessio Beatrice. Togliete la presentazione? Ok. Ecco, questo è quello che vi ho detto, il tubo di Crux. è un'ampolla antesignana del vecchio tubo cattodico del televisore a cui era stata tolta tutta l'aria, era stato fatto il vuoto. Vedete che c'è il catodo qui, il polo negativo della pila a cui avete attaccato questo tubo, no? Questi sono i fili del polo positivo. Ecco, lui studia queste strane cose che produce questo tubo di Crux e un giorno, che è l'8 novembre del 1895, si accorge di una cosa strana. Si accorge che, nonostante avesse messo un panno nero su questo tubo di Crux, quando lo accende, cioè attacca i fili alla pila, alla batteria, no? Vede con la foto dell'occhio una strana luminescenza su uno schermo. Lui rimane interdetto, crede che sia un errore, prova a staccare la pila, attacca la pila e così via, no? Ma quando l'attacca c'è sempre questa luminescenza verdognola. E allora lui prova a metterci delle cose in mezzo, no? Toglie il panno, ci mette un libro, poi ci mette un foglio di carta, comincia a manovrare questa cosa e vede che comunque questa luminescenza non viene interrotta dal libro, dal foglio di carta che c'era. E facendo questo, per caso, ci mette una mano. E quando ci mette la mano, vede che sullo schermo compare lo scheletro della mano. E allora tutto eccitato, chiama sua moglie, che non era mai entrata nel suo laboratorio in tutti gli anni. Sua moglie aveva sei anni più di lui, si chiamava Anna Berta, e dice, senti Anna, vieni qua e stai lì con la mano vicino allo schermo. E intanto la illumina con questo tubo di crux, no? Anna obbedisce, sta lì e dopo 15 minuti toglie la mano e vede che sullo schermo si è formata la prima radiografia della storia, che è questa qui. E la sua mano, vedete che c'è anche un anello, no? E Anna Berta è sconvolta e dice, Oddio, Oddio, ho visto la mia morte, perché ha visto le sue ossa. E questo è l'8 novembre 1895, quindi è il giorno della scoperta dei raggi X. Una scoperta un po' fortuita, ma fatta da uno scienziato molto rigoroso che è andato avanti, ha sperimentato e ha capito che questi raggi X erano prodotti da queste particelle negative che poi un altro chiamerà elettroni che sbattendo contro il vetro o contro un bersaglio, violentemente producevano questi raggi X. Perché X? Lui li ha chiamati da subito raggi X perché X è l'incognita matematica, no? Quando non sapete una... dovete trovare un'incognita, la chiamate X. E lui ha chiamato questi raggi X perché all'inizio non sapeva che cosa fossero. Comunque ha avuto un successo strepitoso. Vedete qua che il 8 novembre è il giorno della scoperta. Già il 28 dicembre ha scritto un articolo e l'ha mandato alla rivista. Il 13 gennaio, quindi subito dopo, del 96, quindi a un mese, poco più di un mese e mezzo dalla scoperta, fa una dimostrazione davanti non solo ai colleghi scienziati ma addirittura davanti all'imperatore, Guglielmo II. Non mi ricordo più se era già a Germania o se era ancora a Prussia ma insomma è una persona importante e ottiene un successo clamoroso con Standing Ovation, con questo congresso di congrega di scienziati che decide, seduta stante, di chiamare questi raggi raggi Röntgen. Ma lui, che era un tipo abbastanza modesto e abbastanza umile, dice no, 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 non voglio chiamarli come me stesso. Continuiamo a chiamarli raggi X. E questo vale ancora oggi in tutto il mondo, tranne la Germania. In Germania questi raggi sono chiamati raggi Röntgen. E pensate che già nel marzo, quindi tre mesi dopo la scoperta, quattro mesi dopo la scoperta, in Inghilterra, a Glasgow, viene istituito il primo dipartimento di radiologia, quindi per fare le radiografie, della storia. Quindi ha avuto uno sviluppo immediato e anche una ricaduta tecnologica immediata. E per questo Röntgen è stato il primo scienziato a ricevere un premio Nobel per la fisica nel 1901, che è stato proprio l'anno in cui il premio Nobel è iniziato. E questo è il reparto di radiologia di Glasgow. Quindi questa è stata la scoperta. Fate conto che tutte le volte che fate una radiografia dal dentista, usate la versione moderna di questo tubo di crux. Voi accelerate degli elettroni che sbattono contro un bersaglio, nello scontro si formano questi raggi X che vi trapassano la carne e riuscite quindi a vedere le parti non molli ma più dure, cioè lo scheletro vostro. E per questo dovete ringraziare Wilhelm Röntgen. Tenete presente che il premio Nobel dà un sacco di soldi, gli vengono dati, e lui gli devolve interamente, e divolve interamente il premio alla sua università. Quindi proprio muore non ricco poco tempo dopo la morte della moglie, con cui ha convissuto felicemente, nonostante lo scherzetto della mano messa nel tragitto della GX. Vabbè, questo è... Aspettate che... Ecco, ritorniamo a noi. Bene, questa è stata la scoperta dei raggi X. Molto, molto interessante, molto anche divertente, devo dire. Però adesso, appunto, dopo aver capito cosa sono i raggi X, la prossima domanda è forse abbastanza ovvia, però che cos'è l'astronomia X questa volta? Allora, come vi ho detto all'inizio, i raggi X sono un tipo di luce. E se ci sono nell'universo delle sorgenti di raggi X, noi li possiamo studiare e trovare, avendo a disposizione uno strumento che è capace di rivelarli. Però attenzione, perché i raggi X, aspettate che... I raggi X non penetrano nell'atmosfera, perché i raggi X vengono fermati dagli atomi che sono ad una certa altezza da subito in atmosfera. Quindi non possiamo vedere il cosmo, le sorgenti al di fuori dell'atmosfera, usando i raggi X. Bisogna o fare dei palloni stratosferici o fare dei missili che durante il loro tragitto, prima di schiantarsi ancora a terra, registrano i raggi X, oppure fare dei satelliti. La storia comincia proprio con questi primi tentativi di guardare il cosmo montando dei rivelatori di raggi X su dei missili. Missili che appunto non entravano neanche in orbita. Facevano un viaggio, andavano sopra l'atmosfera, ci rimanevano qualche minuto, qualche decina di minuti e poi ricadevano a terra. Ed è proprio in uno di queste osservazioni che Riccardo Giacconi, che è da tutti considerato il papà dell'astronomia X, si è rivelato che ci sono effettivamente delle sorgenti che emettono raggi X. La prima sorgente era nella costellazione dello Scorpione, era potentissima, ma oltre a questa prima scoperta e contemporaneamente a questa, si è visto che è come se tutto il cielo pululasse di raggi X di basso livello. Quindi c'era una sorgente diffusa di raggi X che è stato poi chiamato fondo cosmico di raggi X di cui non si sapeva la provenienza. Perché era guarda per tutto, se tu guardi da qualsiasi parte con uno strumento che rileva i raggi X, vedi un certo chiarore, come se il cielo non fosse buio, come se il cielo avesse un chiarore nei raggi X. e la storia di Giacconi è anche questa curiosa perché Giacconi ha fatto il liceo a Milano dopo che i suoi genitori si erano separati. Lui è rimasto con sua mamma che si è spostata da Genova a Milano. Sua mamma era professoressa di matematica e insegnava al liceo Vittorio Veneto e lui ha fatto quel liceo lì, di Vittorio Veneto. Lo dico con un pizzico di curiosità perché anch'io ho fatto il Vittorio Veneto, anche se ai tempi non sapevo assolutamente questa storia. Lui l'ha fatto un po', sono vecchiotto, ma lui l'ha fatto molto prima di me, negli anni 50. E dopodiché ha studiato fisica all'Università di Milano e a quei tempi c'era un guru dell'alta energia, un guru, un fisico eccezionale, a cui l'Università è stata dedicata, che si chiamava Beppo Occhialini. Lui si laurea, ovviamente va nell'entourage di Occhialini, lo conosce bene e gli chiede «Ma Beppo, che cosa devo fare io da grande?» E Beppo lo guarda e gli dice «Go West, vai all'Ovest, vuol dire emigri in America, che avrai più opportunità». E così fece. E appena arrivato in America, si lega con altri e fonda un piccolo gruppo e c'è il problema. Lui voleva fare le osservazioni che era GX e si chiede «Come faccio a farmi finanziare?» Sono gli anni 60. I russi hanno già lanciato il primo Sputnik, avevano dimostrato di saper raggiungere la Luna e di tornare indietro, perché una navicella aveva fatto la prima foto della faccia nascosta della Luna e quindi erano molto avanti e quindi Kennedy, in un discorso rimasto famoso, dice «Bene, entro la fine del decennio», era l'inizio dell'anno del 60 proprio, l'America farà atterrare una navicella sulla Luna e riporterà gli astronauti che toccheranno il suolo sani e saldi a terra e fa questa sfida. Ovviamente questo vuol dire montagne di dollari dedicate allo sviluppo, perché gli americani erano indietro, dovevano sviluppare i missili, le tecniche, i rendezvous spaziali, non avevano ancora amato nessuno nello spazio, figuratevi voi, no? E quindi Giacone e Solenturage cosa pensano? Qui dobbiamo cercare di metterci nel filone per avere i soldi, dobbiamo utilizzare i raggi X per qualcosa che centri con la Luna, no? E quindi propongono di studiare l'emissione della Luna e dicono loro generata dai raggi cosmici prodotti dal Sole, si tratta di elettroni, protoni, che il Sole soffia via da lui, e che arrivano a grande velocità sulla superficie della Luna e schiantandosi potrebbero produrre raggi X che potrebbero far male agli astronauti. e con questo stratagemma riceve i soldi per poter fare il primo missile proprio delle prime osservazioni nei raggi X che ha portato a queste scoperte. Scopre che di raggi X o la Luna proprio la Luna non ne fa, il processo è molto debole, in compenso scopre tutte le altre cose e inizia l'astronomia. In raggi X scopre che nel cosmo ci sono un sacco di sorgenti che producono questi raggi, anche se la Luna non ne fa, neanche su questo processo. E quindi inizia l'avventura in questo campo. So se ho risposto e dove devo fermarmi, però insomma, perché poi avete anche un altro importante personaggio da intervistare che ha fatto proprio delle scopi per raggi X e quindi insomma vi dirà di prima mano anche degli aneddoti insomma divertenti e importanti. Comunque vabbè, il mio aneddoto è questo, ho fatto lo stesso liceo di Riccardo Giacconi, premio Nobel nel 2002, papà dell'astronomia X. Bene. Come è cambiato questo tipo di astronomia negli anni? Beh, come vi ho detto, l'inizio è stato attraverso uno stratagemma la necessità aguzza l'ingegno e è stato un inizio abbastanza povero se possiamo dire così. Il gruppo di Giacconi era fatto da 4 o 5 persone ma dopo le prime osservazioni di colpo è quasi decubblicato in America. Proprio, quindi si trovava a dirigere quasi 100 persone, 50-60 persone, tanto per dire. e negli anni 70 pensa di non fare osservazioni soltanto dal volo di un missile ma pensa di mandare in orbita un vero e proprio satellite. E non solo, il primo satellite è stato UNRU che vuol dire libertà in lingua Siaili, Siaili, non so, in lingua africana e questo primo satellite scopre neanche un centinaio di sorgenti che però insomma hanno dimostrato che il cielo era pieno di questi sorgenti qua. E dalla parte della teoria si capisce che i raggi X potrebbero essere un buon modo per andare a scovare i buchi neri. Ora i buchi neri sono neri e di luce non ne fanno né visibile né radio né raggi X quindi non sono loro direttamente che possono emettere della luce però hanno la proprietà che della materia che del gas che passa lì vicino sente una gravità così intensa e così forte che ha il destino segnato cioè cade dentro un buco nero. Poco prima di cadere però cosa succede? succede che questo gas che gironzola lì vicino viene attirato e essendo attirato si comprime pensate a una nuvola di gas che deve cadere dentro un buco nero che è abbastanza piccolo quindi si deve comprimere e che cosa fa un gas quando si comprime? L'aria dentro la pompa della bicicletta se voi pompate le ruote della bicicletta la pompa si scalda e questo succede anche al gas che sta cadendo dentro un buco nero si scalda così tanto da raggiungere i 10-100 milioni di gradi a queste temperature il gas produce raggi X e quindi raggi X dovrebbero essere la firma con cui voi riconoscete che tal sorgente nel cielo è probabilmente un buco nero e così nel 1974 per dire si scopre che c'è una sorgente nella costellazione del Cigno la costellazione del Cigno è bella è quella croce che si vede d'estate e lì proprio potete guardarla quest'estate la vedete lì c'è il primo candidato buco nero mai scoperto nel 74 ora erano anni in cui la ricerca della relatività generale dei buco neri eccetera era in pieno svolgimento e aveva una se volete un rinascimento una seconda rinascita e quindi c'erano delle discussioni accanite tra chi ci credeva e chi non ci credeva e quindi c'è ci sono due guru della relatività generale allora c'è da una parte Kip Thorna che è uno dei massimi guru teorici della relatività generale premio Nobel anche lui tre anni fa per la scoperta di onde gravitazionali a cui ha partecipato e dall'altra niente di meno che Stephen Hawking allora succede che Kip Thorna ci credeva fermamente che questa strana sorgente nella costellazione del Cigno fosse in realtà un buco nero e Stephen Hawking pur avendo dedicato la vita fino a quel momento ai buchi neri quindi anche lui provesse all'assistenza dei buchi neri eccetera decide di fare lo scaramantico e di scommettere contro e quindi c'è questa strana messa che è diventata famosissima c'è un foglio di carta scritto a mano da loro due firmato da tutte e due a quei tempi Stephen Hawking poteva usare per pochi secondi la mano eccetera e quindi si vede proprio la firma Stephen Hawking poi però perderà purtroppo con l'avanzare della malattia l'uso sapete chi è Stephen Hawking l'avete visto ecco e dopo qualche anno finalmente si riesce a misurare la massa di questo strano oggetto nella costellazione del Cigno e si scopre che ha una massa tale che l'unica soluzione possibile l'unica possibilità che rimane è proprio quella che di essere un buco nero e quindi lui di buon grado Stephen Hawking quindi accetta di aver perso la scommessa anzi è contento di aver perso la scommessa e regala un anno di abbonamento questo era quella i termini di Penthouse a Kip Thorna se avesse vinto lui allora Kip Thorna avrebbe dovuto abbonarlo per quattro anni alla rivista Private Eye che era una rivista che doveva smascherare i falsi in fisica e così via quindi Stephen Hawking fa la parte del serio invece Kip Thorne fa la parte del Monello e vabbè questa è una delle tante scommesse ne ha fatte tante Kip Thorne e le ha perse quasi tutte ma attenzione lui scommetteva contro se stesso in modo che se tutta la sua ricerca si fosse dimostrata falsa almeno aveva il premio di consolazione quindi è uno strano modo di scommettere va bene quindi siamo arrivati al punto in cui è nato è stato mandato in orbita il primo satellite con aborto dei rivelatori X ora quando dico rivelatori X a quei tempi si trattava di specie di contatori Geiger niente di niente di strano e niente di più c'è voluto del tempo prima che si accorgessero che si potevano addirittura costruire dei telescopi X e perché c'è voluto tempo ma perché i raggi X trapanano il vetro o il materiale sono fatti apposta per essere molto penetranti quindi è difficilissimo far riflettere un raggio X in modo da usare un'area di raccolti in modo da concentrarli in un punto come si fa con i telescopi normali ma lì c'è stato entra in scena un altro personaggio fantastico di questa storia che è Bruno Rossi che in America dice a Giacconi ma prova a vedere un modo per riflettere questi raggi X e prova a vedere se questo sistema di incidenza radente quindi il raggio X è quasi parallelo a questa superficie la tocca viene riflesso è un po' quello che succede quando voi guardate una pozzanghera d'estate eccetera se la guardate da un angolo grande da sopra vedete niente vedete l'asfalto che c'è sotto ma se vi accucciate la guardate quasi di sghimbescio vedete le cose che vedete che quell'acqua può riflettere riflettere le cose e questo succede anche per i raggi X quindi Giacconi studia il modo e quindi dice ci vorrebbe un anello in modo che raggi X arriva fa un piccolo angolo ma questo piccolo angolo basta per concentrarli tutti in un punto e però Giacconi dice a Bruno Rossi però se è fatto così l'area disponibile è molto molto piccola è come se voi guardasse più o meno un cilindro dal davanti e vedete che è quasi invisibile diventa vedete soltanto il cerchio e Bruno Rossi gli risponde Riccardo ma mettine uno dentro l'altro fai tanti di questi quasi cilindri mettine uno dentro l'altro in modo che moltiplichi l'area e così Giacconi fece e con questa idea riesce a mandare in orbita il primo satellite con a bordo un telescopio si chiamava Einstein questo satellite e aveva a bordo con questo sistema di incidenza radente poteva essere ovviamente molto molto più sensibile non solo più sensibile ma poteva vedere i dettagli fino ad allora arrivavano i raggi da tutte le parti facevano scattare il contattore Geiger ma uno non sapeva da dove arrivavano dovevate schermarlo questo rivelatore in modo che i raggi potessero entrare soltanto da una parte però era una cosa come quando voi avete una lente rotta cioè una cosa che non riesce a mettere a fuoco invece con questo telescopio Einstein si riesce per la prima volta a fare le immagini X quindi a vedere i dettagli una rivoluzione quindi si vedono finalmente tantissime cose e vabbè e quindi questa è stata una rivoluzione epocale che poi è stata ovviamente ripetuta e come Pareschi vi ricorderà la prossima tappa futura è la costruzione di un telescopione Atena che avrà come area di raccolta addirittura un metro circa un metro un paio di metri di queste cose innestate una dentro l'altra e così via e quindi ci saremo sempre più sensibili potremmo vedere delle cose sempre più deboli e sapete che avere la possibilità di vedere delle cose deboli dà la possibilità di vedere cosa lontane un faro lontano viene visto come una luce molto molto debole quindi insomma ancora un telescopio per vederlo e quindi si cerca di andare addirittura alle prime sorgenti che sono capaci di fare i raggi X e quindi a vedere sorgenti che sono distanti da noi un 13 miliardi e mezzo di anni luce insomma proprio le prime sapete che in astronomia guardare cose lontane visto che la velocità della luce non è infinita la luce ci mette del tempo ad arrivare quindi se una cosa è molto lontana la luce deve essere partita tanto tempo fa e quindi potete fare la storia in diretta andando a vedere delle sorgenti via via più lontane vi spostate anche nel tempo quando i loro fotoni sono partiti e non so se questo è sufficiente no ditemi voi io posso andare avanti tutto chiarissimo devo dire la prossima domanda è qual è stato il contributo dell'osservatorio nel campo dell'astronomia X è stato fondamentale siamo orgogliosi del contributo dell'osservatorio del mio osservatorio perché nel nostro osservatorio lavorava un signore che si chiamava Oberto Citterio che è stato protagonista delle maggiori in invenzioni se così si può dire per fare queste no queste specie di coni per far riflettere i raggi X nel modo più preciso possibile e al costo minore possibile pensate che adesso ci sono dei satelliti in orbita uno si chiama Swift l'altro si chiama XMM Newton l'altro ancora si chiama Chandra allora Swift è un nome di un in inglese Swift vuol dire veloce ma è anche il nome di un tipo particolare di uccello che si chiama rondone quindi rondone veloce e si chiama così proprio per cui ha la capacità di puntare una sorgente in 50 secondi circa lui si sposta e va a inquadrare qualsiasi sorgente in pochissimo tempo quindi se voi sapete che si sta accendendo una sorgente ma lui non la sta inquadrando gli date un comando lui via lui si mette a inquadrare quella sorgente lì perché noi stiamo studiando delle sorgenti che fanno proprio così no? Poi c'è XMM Newton si chiama Newton in onore dello scienziato e poi c'è Chandra Chandra è il diminutivo di Chandra Sekar Chandra Sekar è stato uno scienziato che per primo ha non dico scoperto ma ha creduto fermamente nell'esistenza dei buchi neri per questo è stato nei primi tempi dileggiato perché gli altri non ci credevano ma lui ha tenuto duro aveva ragione lui gli è andato il premio Nobel dopo tantissimi anni e hanno intitolato questo satellite ormai è morto quindi alla sua memoria perché è stato un grandissimo indiano scienziato che è stato che è emigrato in America e pensate che l'idea dei buchi neri gli è venuta proprio durante il viaggio aveva 21 anni 22 tra l'India e l'Inghilterra dove è sbarcato durante il viaggio si annoiava molto e ha inventato i buchi neri un genio assoluto come ce ne sono tanti quindi il contributo stavo dicendo dell'osservatorio è stato nella se volete nella tecnologia per fare questi strumenti ovviamente però visto che c'era tecnologia il nostro osservatorio si è formato un gruppo che poi studiava anche teoricamente dei fenomeni in cui i raggi X erano protagonisti e vi dico subito che sono protagonisti per i buchi neri per le stelle di neutroni e anche per gli ammassi di galassie allora i buchi neri ve li ho già detti più o meno no? non tanto ma le stelle di neutroni sono il gradino prima di diventare un buco nero sono delle stelle che contengono una massa solare una massa solare e mezzo in una sfera che ha 10 km di diametro quindi il sole dentro Milano per dire rimpicciolito e gli ammassi di galassie sono gruppi di galassie le galassie sono sapete cosa sono le galassie? ecco alle galassie non piace stare da sole e tentano di raggrupparsi in grandi gruppi di un migliaio di componenti circa che vengono chiamati ammassi di galassie ora però queste ammassi di galassie contengono sia le galassie ma tra una galassie e un'altra quindi in tutto questo ammasso c'è una plasma o gas caldissimo da 10-15-20 milioni di gradi e siccome è molto caldo emette raggi X quindi è nel nostro osservatorio quindi ci sono delle persone che studiano questi fenomeni quindi contributo direi che essenzialmente tecnologico e tecnico perché qui non io ma loro cioè il gruppo che faceva capo Alberto Citerio e di cui vi parlerà Pareschi che è un allievo di Alberto Citerio quindi senza falsa modestia è diventato il migliore del mondo e vi stavo dicendo questi satelliti hanno a bordo i telescopi fatti e progettati qua a Brera cioè pensate un po' l'orgoglio di Anzolo sì c'è una ditta che è la medialaria qua vicina che è stato uno spin-off dell'idea di Citerio in pratica l'ha fatta nascere lui insomma e continua a fare queste cose di altissima precisione dovete levigare una superficie tipicamente di oro depositato su un supporto di nickel e carbonio con una precisione di un atomo voi avete una pianura una pianura distesa ecco i dossi i sassi eccetera sono devono essere più piccoli di un atomo quindi quindi è difficile no? quindi si tratta di altissima tecnologia gli ultimi minuti li dedichiamo più alla tua vita personale qual è stato il tuo percorso di studi e ora di cosa ti occupi in osservatorio? allora il percorso di studi io ho fatto il liceo Vittorio Veneto dove è andato Giacconi e così via dall'anno 70 all'anno 75 onda lunga del 68 e quindi e quindi non si studiava tantissimo in quegli anni e erano anni abbastanza turbolenti però devo dire che tornando con ricordo a quegli anni erano anni in cui si prendevano seriamente le varie discussioni idee eccetera si leggeva tanto anche se non si leggeva niente di quello che veniva chiesto a scuola come gruppo eccetera noi leggevamo di tutto si discuteva sempre comunque di tutto sia a scuola che fuori cioè era molto molto attiva l'interazione la capacità di discutere di approfondimento basta che non coinvolgesse materie scolastiche quelle e comunque matematica l'ho sempre fatta mi è sempre piaciuta perché la prendevo un po' come la settimana in mistica quindi andavo poco in vacanza facevo 15 giorni con i miei e basta mi mettevo lì e facevo i problemi del libro ma così per gioco capito ma non perché fossi bravo eccetera niente così mi piaceva e poi finito il liceo che cosa si fa eh si fa mi scrivo fisica ma poi con altri amici abbiamo deciso come è bello fare qualcosa tutti insieme di gruppo di qua di là e abbiamo messo su uno studio fotografico e quindi per tre anni ho fatto fotografie eccetera cercando lavoro che non eravamo dei sbarbatelli io avevo 18 anni capito 19 non si fidavano del lavoro eccetera però per tre anni non ho dato neanche un esame cercando lavoro per cui poi ho deciso siccome questa attività di fotografo stava diventando un'attività seria però c'era da decidere cosa faccio faccio il fotografo sul serio o faccio un'università sul serio e ho deciso di fare l'università quindi ho abbandonato la fotografia e ho ricominciato però ormai avevo perso tre anni quindi è stata una rincorsa da fare gli esami in fretta per potermi laureare e quindi badavo più a passare l'esame che a capire le cose e la cosa è cambiata durante la tesi la tesi mi è piaciuta tantissimo perché finalmente era un modo diverso di studiare non era studiare dei libri ma quando voi studiate sembra che le cose siano molto logiche almeno in fisica in scienza eccetera prima viene questo poi viene quest'altro poi ovviamente viene quest'altra cosa sembra che ci sia un filo conduttore che unisce le cose quando farete la tesi qualunque cosa sarà sareste posti sarete posti di fronte a un problema non risolto ancora se è una tesi buona se è una tesi di ricerca e quindi non c'è la soluzione nel fondo del libro non è un esercizio e scoprite che questi scienziati più vecchi di voi tra l'altro quando leggevo gli articoli sembrava che fossero vecchissimi con la barba bianca eccetera poi andavo ai congressi li guardavo erano miei coetanei perché ero due o tre anni più vecchio di quello che dovevo essere perché li avevo persi quindi ma accapigliarsi e discutere su idee diverse capito e fate la pesca qual era quella giusta eccetera per cui avevo questa grandissima sensazione che in astrofisica si sapeva insomma abbastanza le informazioni non erano così grandi quindi qualsiasi idea stupida io potessi avere era meritevole di attenzione e questa era una sensazione mostruosamente bella no di sentirsi alla frontiera no qui c'è la cosa conosciuta di là c'è l'ignoto io sono qua in mezzo capito e posso dire quello che voglio basta che abbia consistenza interna quello che voglio non è vero ma insomma no c'era la sensazione di poter studiando abbastanza eccetera di poter dire qualcosa che nessuno aveva mai pensato e questa è una sensazione fantastica per cui mi ricordo che mia mamma si era preoccupata perché prima della tesi io uscivo tutte le sere mi vedevano molto poco no invece durante la tesi non uscivo mai ero sempre lì che studiavo ma cos'è successo cioè stai male invece no me la godevo tutta e non sabato e domenico non vedevo l'ora che venisse lunedì per raccontare quello che avevo pensato no agli altri che facevano la tesi e alla mia relatrice che mi seguiva va bene dopodiché mi sono laureato e a quei tempi non c'era ancora il dottorato in Italia ma c'era a Trieste perché a Trieste c'è una scuola internazionale quindi è regolata sulle norme internazionali era più avanti e era fatta apposta per dare il dottorato alle persone per cui faccio l'esame lì mi prendono e io contento di continuare a studiare perché sapevo di sapere poco insomma per cui altri tre anni di studio pensavo mi avrebbero un pochino messo a pari e dopo questi tre anni bisognava cercare lavoro in qualche maniera e tipicamente quello che succede è che cercate un lavoro da precario non tanto in Italia che ce n'è sempre stato poco anche loro ce n'era poco ma all'estero quindi fate le domande di essere preso come si dice postdoc all'estero e mi prendono a Cambridge in Inghilterra e io tutto contento vado a Cambridge che è uno dei posti più belli ci sto due anni e poi vinco finalmente un posto di ricercatore a Torino all'osservatorio di Pino Torinese come astronomo e poi dopo altri sei anni nel 96 vinco un concorso per astronomo associato quel gradino sopra e riesco finalmente a tornare qua all'osservatorio di Brera Milano dove tutto è partito però decido di andare a sede staccata a Merate che una volta era la sede osservativa adesso non si osserva più niente il cielo è troppo schifoso per fare osservazioni serie questo è stato il mio percorso il mio ruolo dentro l'osservatorio è quello di studiare proprio questi oggetti estremi che traggono la loro energia da crescimento di materia su un buco nero quindi devo ingegnarmi e sapere come fanno a produrre la luce che noi vediamo inclusi la GX e quindi devo inventarmi dei modi e dei modelli eccetera per spiegare le osservazioni che facciamo e per scoprire cosa dicono queste osservazioni cioè qual è la macchina che caratteristiche deve avere la macchina che produce queste raggi X in base alle caratteristiche della luce che vedo dell'emissione che vedo è un lavoro sia teorico che a parte osservativo dovete sapere che per avere osservazioni dovete fare una gara quindi spiegate il vostro progetto di osservazione perché avete bisogno di quell'osservazione e uno su cinque ce la fa già gli danno il tempo gli dicono sì questo satellite per cinque ore un grande successo guarderà quello che tu vuoi la sorgente che tu vuoi ed è difficile ovviamente ottenere questo tempo però con un'osservazione andate avanti sei mesi a studiarla quindi insomma insieme ad altri dopodiché io penso che il ruolo di un ricercatore sia quello di ricercare e farsi delle domande il più possibile ma anche ogni tanto di trovare qualcosa perché se no capito ricercare ricercare se non trovi niente è brutto no? E parallelamente a questo deve dopo un po' trasmettere le conoscenze che ha avuto in maniera professionale ai giovani e quindi docenza oppure avere degli studenti di laurea di dottorato eccetera per trasmettere il sapere e soprattutto insegnare come si fa ricerca che è una cosa diversa dallo studiare un libro molto diversa richiede una complessità di 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 bravura se volete che è più grande che sapere una cosa e poi invece devo giustificare le persone che mi pagano cioè voi voi vostri genitori che voi le tasse non le pagate ancora però noi siamo statali quindi prendiamo lo stipendo dallo Stato attraverso le tasse che i contribuenti pagano e quindi è giusto che io dia qualche cosa di ritorno a tutti quanti nello spiegare quante cose belle ci sono nel cielo e il piacere di averle scoperte trasmettere cercare di contagiare le persone con il piacere che proviamo avendo un'idea nuova oppure scoprendo una sorgente nuova e così via e quindi fare divulgazione in modo da essere comprensibili da tutti loro ti pagano se non gli dici niente perché dovrebbero pagarti no questo è il mio ruolo beh noi allora io sono assolutamente felicissima che ho fatto questa intervista ho scoperto veramente tantissime cose e non avevo idea assolutamente è stato veramente fantastico io credo che anche Aless sia rimasta molto felice di tutta l'esperienza e niente noi ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato per aver risposto alle nostre domande anche un po' da ignoranti perché insomma non sappiamo molto però ti ringraziamo veramente tantissimo ma grazie a voi dai e come dico sempre se volete un consiglio trovate qualche cosa che vi appassioni sul serio ma quando la trovate dateci dentro dateci l'anima perché più ci date l'anima e più avrete gratificazione da quello che fate e vi dico cioè io quando non ho un'idea quando mi sembra vagamente di avere un'idea nuova ho un scarico di endorfine quindi una sensazione di piacere e la pelle d'occa nelle braccia per cui tipicamente succede mentre sto parlando con gli altri stiamo discutendo eccetera e quando mi viene dico guarda l'idea certificato l'idea è buona c'è la pelle d'occa capito e faccio questo lavoro per avere queste sensazioni che purtroppo ce l'avrò un paio di volte all'anno poche volte però vale la pena vale la pena è uno dei piaceri più grandi che uno può avere quindi dateci dentro e vengono qualsiasi lavoro potete fare se vi ingegnate se avete un'idea nuova se avete un modo nuovo di fare una cosa eccetera e questo è piacere e se sentite piacere non avete bisogno di guadagnare tantissimi soldi per fare la vacanza per cercare dei piaceri no in gran parte un po' indotti ecco questo è piacere puro stupendo grazie mille ancora e va bene a questo punto buona serata direi grazie a voi buona serata anche a voi grazie ciao